Ciao ragazzi, bentorni e benvenuti a partire sul mio canale, io sono Magnus e siamo qui su Filo21 che è allenatore di un po' che avanti riusciremo a toglierci sto marchio che ci abbiamo addosso, che ogni volta praticamente si fanno delle grandissime prestazioni con squadre come Arsenal, no forse con Arsenal abbiamo perso, con Chelsea, no forse... vabbè comunque facciamo delle buone prestazioni, ma non mi ricordo mi pare che ho citato proprio le squadre dove abbiamo preso insieme abbiamo 60 partite, vabbè, perché non voglio arrivare poi sotto sotto che poi non mi rinnovano magari quelli più importanti, vediamo un pochettino, aspetta, maglietta un attimo, maglietta ci può stare Abrams merita un buon momento per cui non lo facciamo giocare perché quando entra in partita sembra che giochi meglio difesa stiamo abbastanza bene, soddisfatto, Williams è il primo che supera la barriera degli ottan 90, a parte Edwards, vabbè, ma Edwards sapevamo che comunque era un super talento, Bergstrom sta salendo veramente tantissimo ragazzi e allora quindi facciamo così, mettiamolo a botta a Euro Shane me lo voglio portare perché se no poi dopo si incazza, me lo rinnova perché Shane va bene, vediamo un pochettino, lo portiamo al posto di e ha pinto, va bene, ok, sono un po' indeciso, giochiamo così poi eventualmente facciamo qualche cambio Aston Villa non mi ricordo l'andata che cosa abbiamo fatto però metterci davanti Guarda che c'è Nooo Ci ha messo tre quarti d'ora per girarsi, non l'ho capito perché Aspettami Ho cercato di... oh ma ce la dice sempre sta cosa, che dove va? Non lo fa corsare, non lo fa corsare, è mia eh, bravo Ecco che perde palla Non è rigore, non è rigore, non è rigore perché sono entrato sulla palla tranquillamente E' da vedere, e' da vedere, e' da vedere perché secondo me... Ci sono 50 giocatori davanti ma secondo me è fallo eh Mannaggia Passa in istra Nooo Ok, 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 vai, vai, vai Giorgiovic, vai, vai Giorgiovic Io ci proverei Porca... Piano, questa non la prende Vai lo Bataero Vai Bobbita Aspettami Guarda che se mi vai E' una Ma perché me la dai così forte? Io non lo so Bastava un tocchetto in aria Un tocchetto in aria bastava Ok Mamma mia Così vi voglio, così quando iniziamo a giocare Pam 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 E' mobbita, è mobbita Vai di si eh Perché... Comunque era caldo eh Bellissimo colpo di tacco Occhio No E' cauto da solo eh, arbitro però Ma che due palle però Portiere Guarda, sti passaggi così mi fanno incazzare E da Vabbè Ma che ha sportellate da Treseghe Treseghe Guarda lì, guarda lì Ma le prese Allora io capisco che dovete segnare Però che due palle C'è incredibile Non riusciamo più a uscire perché devono segnare Dai Ma cioè Ma buia Ma non è possibile Cioè non riesce a spazzare Non riesce a fare niente Ma poi i giocatori due sono un imbranamento totale Cazzo Vabbè Ok Lascia stare Basta Aspettami E vai Meno male Bella azione Bella azione Dai, 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 dai Dai Abravas Basta con queste mani Cerutto Meno male che non gli ha dato in profondità Ok Non la perdere Non la perdere E basta No, no, no Ma che brutta palla Che mi dai Ma perché Io non lo so Guarda Io Io non capisco perché Mi devi dare queste palle così Ma che schizzappata Che me da Speravo che non è fuori gioco Ma Meno male che era fuori gioco Meno male che era fuori gioco Perché avevi pure sbagliato Meno male che era fuori gioco E facci fa l'azione Però che che ha 2 a 2 che non serve a niente Mannaccia Abbiamo sempre sto cavolo di problema Non so perché Avremmo fatto 50 miliardi di pareggi 50 miliardi di pareggi Non lo so Poi in difesa Alterniamo secondo me Alterniamo in difesa La ringrazio mister Questa azione autorevole Non lo so Dico la verità Aspettavo un po' Qualcosa di meglio La scuola era accettata Le condizioni Per prelevare Ace Con la forma Prestito per un anno Ah Va bene quindi Accettiamo Quindi Ace Se ne va In prestito Allora Reso conto Va bene A nazionale No Rifiutiamo Perché sono già incasinato così Ci mettiamo pure Allora Non esiste proprio No Questo si Reso conto Giovani talenti Sì A 350 Guilt 15 anni Questo sembra 1,75 Sempre i nani Va bene 1,77 Questo sembra Abbastanza promettente 15 anni Guilt Che poi era un portiere In vale il nostro Guilt Questo sembra anche Un centrocampista C'è 15 anni La voglia crescere Io lo ingaggierei Dai Vediamo un pochettino Chat King Pensi di essere migliorato Ne parleremo presto Non lo so King Perché mi hai un po' deluso Ti dico la verità Sono rimasto un po' male Quando hai detto Che non volevi rinnovare Perché volevi una barca Di soldi E' un C o C Ma tanto per cambiare Però Vabbè A noi ci serve il C o C Quindi Aspettavo un po' meglio Ti dico la verità Vabbè Piano di crescita Lo facciamo un po' Migliorare Velocità Mamma 60 in velocità Accelerazione Centrocampista Offensivo Dai Facciamo giocare Innanzitutto cambiamo le magliette Perché così Ma così andiamo bene Abrams Abrams Sta bene là Lì ci mettiamo Ace Anzi no Facciamo così Metto Pinto Ma giochiamo con Pinto Poi E' la sta bene là Lo battaglio Ho pure segnato Però Torres Gli voglio far fare una partita Poi magari lo cambiamo Con Mobida Ci mettiamo invece qua Berxtro Mettiamo Neopstader E a posto di Boyd Ci mettiamo Ace Poi ci vediamo Se magari Boyd C'è Boyd Che Djordjevic Ci dà maggiore soddisfazione In quel ruolo E' buono E' buono Vai 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 Bastardo Hai preso Stava Era un po' Troppo Ah no Era fuori Secondo me Era fuori Guarda che Stava non è Bravo Williams Quasi bravo Qualcuno che esce Raga Ok Andiamo Meno male Ok Raga Questo è il portiere Mi serve qualcuno Che mi dà una mano E dai Mamma mia Eppà Ma che Ma questi sono scemi Sblocca dunque il match 1 a 0 Al minuto 24 Perfetto Grazie E' buona E' buona Eppure fallo E figuriamoci se mi segnavi da là Potevo beccarmi il vantaggio Mi ha detto Ma Ma Sicuriamoci Ci riuscivamo a segnare Questa La butta fuori Non fa fallo Non fa fallo Va boia Sempre 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 Guarda Io non lo so Io E mo Pidiamo il gollo Perché quello ha sbagliato Sta solo Sta solo E mo Pidiamo il gollo È garantito È garantito Perdiamo palla Contropiede Segnano Non è fuori gioco Non è fuori gioco Non è fuori gioco Eh no C'è troppa pressione All'avanti Troppa pressione Non si riesce a girare Mannaggia Esce Esce Non esce Non esce E vai Ma non ha saltato Nemmeno Ma poi fa il fallo Questi perdono tempo Ma che buona Io non capisco Perché E vai Meno ma Ma che ha rallentato Il bastardo Eh però Vabbè comunque Meno male che Meno male che Ci abbiamo Edwars Che è un giocatore Di un altro pianeta Eh Mamma mia Si vede che a volte È 92 O 93 Mannaggia La misera Mannaggia E dai Ma non è possibile Che la mia volta C'è Passo Becca C'è Una volta che in gara Il passaggio Becca pure l'avversario Ma che c'è C'è Poi veramente Guarda Eccolo qua Porti Vabbè C'è Premia i loro sforzi C'è Questo dice Che addirittura Il risultato Premia i loro sforzi Ma lo so Scusate Ma che ha fatto Voglio vedere Perché a questo punto Io Sono Basito Basicce Guarda qua Che fa Questo Portiere Che fai Si guarda la palla Bello Complimenti Portiere Bellissimo Hai dato anche Una capata Nel palo Penso Speriamo Che gli è avuta Una convulsione Celebrale Che bella parata Guarda Fantastico Perdiamo Potrei dire Ingiustamente Ma lo so Perché obiettivamente Se ti No Era sul pareggio Come ti Ti importa Tre Loro Se Cinque Vabbè Possesso palla Addirittura C'hanno più Possesso palla Di noi E a questo punto Comincio Un po' Preoccuparmi Perché obiettivamente Momento Che No Siamo Quattordicesimi Comunque Uno Due Tre Qua Non è che Siamo Però Trentotto Ma World Forza Trentuno Alza 29 Attenzione Attenzione Perché qua Secondo me Abbiamo fatto un buon anno Però Ace in prestito Vabbè Ace Deve attene in prestito Va bene così Lexter Squadra tosta Quindi Vabbè Tra l'altro C'ha pure Milik Che cavocannoniere Va bene Allora Usiamo questa Tattica Perché Sembra Andare bene Mettiamo Lobataero Squadra così Formale Barbutt Io Io Giocherei Così Non rischierei Tanto Perché Almeno Per cercare Di vincere Almeno Mi raccomando È mia È mia La presa La presa Ok Allora Buttare a mezzo Non serve a niente Meglio Almeno Così Facciamo Una più bella Figura Bravo Della fuente No No Non bisogna Nessun Gull Vai che bura Vai che bura Vai Della fuente Porca Misera Della fuente Scusate Ma il terzino Ma dove Cavolo Sta Tutti Avanti Tutti Avanti Stiamo Non lo so Un po' Siamo sfortunati Un po' Portiere Andiamo No Mamma mia Raga Mamma mia No 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 Ah Già Dobbiamo Farsi Ah Si è anche È anche morto Un giocatore Credo che sia morto Un giocatore nostro Chi è che si è fatto Collins Fantastico Dai Facciamoci pure del male Attenzione 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 Chi è quello che passeggia là Ma chi è quello che Allora Io sto Sto delirando Avanti Aspetta un attimo Perché c'è Ho visto uno Che passeggia L'obbatero Passeggiava Non riesco Andare È buono È buono Emani Rigure Rigure Mi dispiace Mi dispiace Proprio Ma Te ne devi Proprio Andare Eh No Allora No Barbù Non ti piglia Colora Ma La facciamo Tirare Sempre Al nostro Edwards Ma Altro Angolo Edwards Amma mia Raga Mamma mia Però pareggiamo E' quello il problema Segna solo lui Ormai È un periodaccio Praticamente Ci stiamo Praticamente Mettendo In crisi Completamente In crisi Ci stiamo Complicando Un impossibile Non riusciamo Più a vincere Praticamente Meno male Che ogni tanto Mi rendo conto Che ci sono Un po' Di fortuna e sfortuna Però Giocatore infortunato Chi Cinque giorni Per Collins Va boh Fa niente Se non decidi Mandarmi in campo Spesso Ripensa Al mio futuro Qui Non è a rischio Stai tranquillo Non ti preoccupare Vabbè Noi siamo Tredicesimi Non è cambiato Niente A parte Il fatto Che arrivano Da dietro Non in quel senso Ma anche In quel senso Ci vediamo Siamo al prossimo Bye